Siamo giunti alla fine di questo 2020 e quello che mi viene da dire da un lato è finalmente, finalmente perché quest'anno è stato un anno veramente difficile, un anno complicato, un anno nuovo, diverso, perché ci ha visti i protagonisti di una pandemia che sicuramente ha colpito in modo indelebile le nostre comunità e il nostro quotidiano Noi comunque, nonostante tutto, siamo andati avanti e abbiamo cercato di fare del nostro meglio per essere vicino a tutti, per stare accanto ad ognuno di voi e per cercare di alleviare le tante sofferenze, i tanti momenti di difficoltà che in questi mesi si sono presentati davanti a noi. La vita politica, la vita amministrativa comunque è andata avanti, abbiamo cercato di fare anche qui del nostro meglio con tante opere pubbliche che hanno visto la luce e tante altre che sono in corso di realizzazione, penso al campo di calcio che siamo riusciti ad inaugurare, penso alla palestra comunale dove ci sono i lavori in corso, penso al polo socio-sanitario, un'eccellenza nella nostra zona in ambito sanitario in un settore molto importante e determinante che riguarderà tutti i servizi di riabilitazione e quant'altro. Penso alla scuola elementare Felice Muscolino, uno dei poli più importanti della nostra comunità e altre opere, la riqualificazione di giardino, l'ex guardia di finanza. Non sono mancati ovviamente tutti quei servizi, chiamiamoli, essenziali, ma non solo essenziali ma anche dei servizi aggiuntivi che abbiamo continuato a garantire e non abbiamo mai chiuso un giorno il nostro comune. Questo ci tengo a sottolinearlo, è stata una scelta dura, forte, ma per me era ed è fondamentale che la Casa del Cittadino anche in tempi di pandemia rimanesse sempre aperta proprio perché il comune è e deve essere il punto di riferimento per tutti. Non abbiamo lesinato le nostre energie per cercare di venire incontro alle esigenze di tutti e per questo voglio ringraziare tutta la Giunta, così come tutto il Consiglio Comunale che mi è stato vicino ed è stato vicino alla comunità in questo anno particolare e difficile. Desidero ringraziare ovviamente il Segretario Comunale, i dirigenti, tutti i dipendenti comunali, quelli che hanno dato il 100% e quelli che magari hanno dato un po' meno. Certo e sicuro che potranno e dovranno dare di più nel proseguo. Sono tante le battaglie e le iniziative che abbiamo intrapreso non solo nella comunità di Santa Teresa di Riva e quindi nel mio ruolo di sindaco ma anche a livello regionale nel ruolo prestigioso che mi avete onorato di ricoprire di deputato regionale. Tantissimi percorsi li abbiamo fatti insieme e li ho condivisi con voi e sono sempre stato punto di riferimento per la nostra zona ionica e mi permetto di dire per l'intera provincia di Messina. È un anno particolare, è un anno difficile ma è un anno che ci lasciamo alle spalle e dobbiamo pensare positivo, dobbiamo pensare che adesso inizierà un nuovo percorso, quello del 2021, un percorso importante dove già ci sono i primi spiragli positivi, penso ai primi vaccini che sono arrivati ma penso anche a quelli che sono i percorsi che via via e man mano ci stanno portando fuori da questa pandemia che è destinata comunque a cambiare le nostre vite, le nostre abitudini, il nostro modo di stare insieme. Abbiamo dovuto fare a meno di tanti piccoli gesti, di tante piccole cose delle quali ormai non eravamo più neanche abituati a farci caso. Oggi sono diventati importanti e da questa esperienza negativa voglio tirare il meglio fuori ovvero la capacità, la grande sensibilità che ognuno di noi deve avere nel cercare di essere vicino all'altro, di tendere la mano soprattutto nei momenti di difficoltà come quelli che abbiamo affrontato. Vi auguro di concludere questo 2020 nel migliore dei modi ma soprattutto vi auguro un 2021 radioso, un 2021 che possa vedere sempre più la nostra comunità, la comunità di Santa Teresa protagonista, protagonista delle tante sfide che abbiamo ancora in corso e che sono certo riusciremo a vincere. Mi auguro di vedere la Riviera Ionica ancora una volta protagonista con un percorso di crescita positivo e innovativo che sta riguardando le nostre comunità e il nostro comprensorio e anche l'intera provincia di Messina dove sicuramente siamo riusciti anche noi nel nostro piccolo a dare una svolta importante. Abbiamo fatto degli errori? Sì, certo, come sempre nessuno è esule dal fare degli errori e per questo io ovviamente chiedo scusa perché sono abituato quando sbaglio ad assumermi le irresponsabilità e da chiedere anche scusa. Cercheremo come sempre di fare del nostro meglio, cercheremo di starvi sempre vicini, cercheremo soprattutto di rendere le nostre comunità, il nostro territorio migliore, sempre più a portata d'uomo, sempre più vivibile, sempre più gradevole per chi non solo ci vive ma anche per chi sta fuori e vuole trascorrere le vacanze qui da noi. Auguri di una buona fine, auguri di un buon principio a voi, alle vostre famiglie, ai vostri cari e ci auguriamo che questo 2021 possa realizzare tutto ciò che il vostro cuore desidera.